Grazie a tutti. E andare in un viaggio interiore, un viaggio in un luogo di profonda tranquillità interiore. Questo è il tuo tempo, un tempo per un totale rilassamento. È mattina presto, il sole si sta levando lentamente. Puoi sentire la calda luce color arancio sul tuo viso e sul tuo corpo. Ti senti contento, a tuo agio, rilassato. La sabbia sotto i tuoi piedi è soffice e calda. Una lieve brezza ti carezza il viso. Questa spiaggia è deserta, è tutta per te e tu hai tutto il tempo del mondo in questo momento. Ascolta il rilassante suono dell'oceano. Le sue onde si infrangono dolcemente sulla riva. Fai una profonda e lenta ispirazione. Trattieni il respiro per un momento e poi ispira lentamente. Consenti alle tue tensioni di allontanarsi man mano che, ad ogni respiro, ti senti sempre più rilassato. Fai un'altra profonda e lenta ispirazione. Trattieni il respiro e poi ispira. Svuota completamente i polmoni con la tua ispirazione. Fai un terzo respiro. Continua a respirare lentamente e rilassati.